Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube, sono dentro questa piccola finestrella qui sotto al vostro schermo. Oggi vi spiego che cos'è il Vertigo Effect e come farlo con Final Cut Pro X. Avete capito bene? Sì, Vertigo Effect. Che cos'è il Vertigo Effect? E' uno degli effetti che si vede dal lontano 1958 su tutti i film di Hitchcock piuttosto che Spielberg e via dicendo. Vi faccio vedere qual è così capite di cosa si tratta. Questo zoom praticamente, vedete questo cambio di piano in cui il primo piano rimane sempre nella stessa posizione ma lo sfondo invece si allontana o si avvicina dal piano stesso. Quindi una sorta di effetto speciale che però in realtà, come vedete, nell'82, li facevano già nell'82, nell'83 anche su Scarface, su Goodfellas degli anni 90 di Scorsese e via dicendo. Quindi un effetto vecchissimo che però ora andiamo a vedere come funziona e come si può effettuare. Ve lo mostro anche su Wikipedia perché se andate su Wikipedia e cercate Dolly Zoom Test vedrete come funziona graficamente. Quindi l'avvicinamento e l'allontanamento degli oggetti su più piani mantenendo lo stesso piano però la distanza dell'oggetto nello stesso punto. La distanza dal punto di vista, dal vostro punto di vista ovviamente. È più difficile da spiegare che da farvelo vedere. Quindi adesso, bando alle ciance, prendiamo a mano il nostro Final Cut Pro X. Prendiamo uno dei filmati che ho fatto di esempio, Fit, ok, e vi faccio vedere come funziona. Allora, vediamo un po'. Questo è il filmato che ho deciso di utilizzare. Partiamo da qua. Questo è il filmato. Come vedete non è altro che un allontanamento da un oggetto. Quindi per creare un Vertigo Effect basta allontanarsi da un oggetto con una velocità pressoché costante, una direzione anche costante, e poi sarà tutto fatto in post-produzione. Questo file che vedete qui in questo momento è un file girato in 4K. Lo potete vedere dalle informazioni qui. 3840 x 2160 a 25 frame al secondo. Girato in 4K perché? Perché il Vertigo Effect non è altro che un crop dell'immagine, quindi un avvicinamento dell'immagine. Se lo facessimo con 1080p, quindi in Full HD, un crop, andremo ovviamente a sgranare completamente tutta l'immagine. E otterremo una schifezza stringi stringi. Quindi vi faccio vedere come strutturarlo con Final Cut Pro X. Si basa tutto su keyframes. Quindi prendiamo la nostra clip, la selezioniamo e inseriamo il primo keyframe all'inizio del video. Quindi su Transform andiamo su Scale All e andiamo a dargli il primo keyframe che è questo più qui. Add keyframe. Aggiunto un keyframe e ci spostiamo alla fine del video. Alla fine del video, tenendo sempre selezionata la nostra clip, andremo indietro di un frame perché questo frame, vedete, è l'ultimo e non può essere elaborato in questa maniera. Quindi andiamo indietro di un frame con la frecetta a sinistra e eccoci qui al nostro ultimo frame. Andiamo ad aggiungere un altro keyframe qui alla fine. Eccolo qui. E gli diciamo che cosa vogliamo fare. Cosa vogliamo fare? Vogliamo ingrandirlo. Possiamo fare o tramite Scale All oppure tramite questo, che è il pulsante di trasformazione. Andiamo qui e andiamo ad allargare la nostra immagine fino a quando ci aggrada. Io direi così, più o meno. Facciamo un test. Gli diamo un done. Questo è un esperimento in diretta con voi, quindi non so se effettivamente verrà decente o farà schifo, però il funzionamento del Vertigo Effect è principalmente questo qui. E' esattamente quello che volevamo fare noi. Cioè un ingrandimento dello sfondo mantenendo sempre la stessa distanza costante il nostro soggetto in primo piano, che in questo caso è il boschetto di alberi che abbiamo. Tutto chiaro? Spero di sì. Se avete dubbi, domande, perplessità, incertezze, scrivete qui sotto nell'info box. Spero vi sia piaciuto questo brevissimo tutorial riguardante Final Cut Pro X e l'effetto Vertigo. Pollici in su se vi è sembrato utile questo video e questo tutorial. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Il mio canale è questo qui. Questo che vedete qua in alto. Tommaso Codolo. E ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti quanti. Ciao ciao!